Non disperare mai della misericordia, una frase tratta dalla regola di San Benedetto, commentata da padre Mauro Giuseppe Repori, padre generale dei Cistercensi. Perché ci vuole questa idea della disperazione? San Benedetto mette questo versetto alla fine di una lista di 74 precetti e consigli che chiama gli strumenti delle buone opere, il capitolo 4 della regola, ed è come se alla fine, dopo aver messo tutte queste indicazioni che toccano tutti gli ambiti della vita, della moralità, eccetera, è come se volesse dire, vabbè, magari uno non riesce neanche a osservarne uno solo, ma questo, l'ultimo, tutti possono osservarlo, non disperare mai della misericordia di Dio, cioè che anche la nostra salvezza non dipende da noi, è un Dio che ci salva e tutto il resto è per aprirci in fondo alla misericordia di Dio. Il bello della regola di San Benedetto è che lui parlava soprattutto per l'uomo, lui tratta i monaci nella loro umanità, tanto è vero che è molto realista, in questa lista di opere di chiede non uccidere, non rubare, a volte ci si dimentica addirittura che scrive per i monaci e soprattutto il discorso sulla misericordia è proprio rivolto all'uomo, a Adamo, all'uomo peccatore che Cristo ha redento e che vuole ristabilire in una degnità umana e divina, cioè perché l'uomo ormai da che Dio si è incarnato è chiamato a una vocazione di eternità e questo non è una vocazione specifica, è la vocazione cristiana fondamentale. Misericordia di Dio che fa il paio con la dignità umana, cosa c'entra il fatto che abbiamo un Signore misericordioso con la dignità dell'uomo? La misericordia di Dio realizza la libertà dell'uomo, è la misericordia del padre che riaccoglie il figlio, che gli permette di rialzarsi da una situazione di decadenza, di peccato, di allontanamento non solo dal padre ma anche dalla propria dignità, dalla propria vocazione a essere misericordioso come il padre, a vivere nell'amore, nel dono della vita, nel servizio e nella vera letizia perché in fondo il figlio prodigo fa l'esperienza di perdere non solo la dignità ma la propria gioia, quello perché si ritrova a desiderare quello che mangiano i porci, cioè proprio il desiderio dell'uomo fatto per l'infinito che si ritrova proprio a scadere nel più basso. Ecco la misericordia di Dio ristabilisce questa dignità, in fondo è molto esigente perché un figlio perdonato non è che, come dire, che non ha più niente, la sua libertà non deve più impegnarsi, anzi proprio deve impegnarsi ancora di più a vivere da figlio, che è questo, la volontà di Dio è questa. Noi ci siamo abituati in qualche modo a un atteggiamento contabile, una contabilità dell'amore di Dio, della nostra capacità, della nostra possibilità e in fondo questo atteggiamento riguardo alla misericordia è superamento di questa contabilità. Sì, in fondo la contabilità non rispetta la nostra natura, la natura del nostro cuore che è fatto per l'infinito, perché è fatto all'immagine di Dio, Dio non ha limiti nell'amore, nel dono di sé. Contabilizzare è sempre porre dei limiti. Noi siamo fatti per qualcosa di molto più grande che i limiti, siamo fatti per andare oltre il limite di noi stessi e di quello che ci è dato, che possiamo calcolare. Proprio quando Gesù dice a Pietro, non solo sette volte, ma settanta volte sette, devi perdere il conto di quello che puoi dare, ed è un grande segno di rispetto della degnità dell'uomo che Dio ci venga a dire tu puoi superarti all'infinito, per grazia mia ma puoi superarti all'infinito. E questa è forse la più grande misericordia di Dio, non è tanto che ci perdona, ma che ci rende capaci di un perdono infinito come il suo. La parabola del figlio prodigo parla del fratello maggiore, è andato a fare tutto quello che voleva e poi torna qua e addirittura gli dai il timbro per fare il manager della dita. Il fratello maggiore siamo noi, perché in tutte queste parabole o in questi episodi, in fondo quello che contesta la scena o quello che sta avvenendo è sempre noi che siamo di fronte a Cristo, che ci chiede di più. Il problema del fratello maggiore è che non si è accorto dell'amore del padre, non si è accorto che lui era sempre col padre, che aveva tutto in comune con lui, proprio una distrazione dall'amore del padre, proprio un vivere col padre calcolando. Lui calcolava, mi hai dato questo capretto, non me l'hai dato, ho lavorato tanto e non ho ricevuto tanto. La figura di uno che non vive per l'infinito come il padre, che è all'immagine del padre, vive per un capretto, vive per far festa con gli amici, allora che è chiamato a infinitamente di più. E questo è importante che ci accorgiamo, che questo Vangelo è proprio un Vangelo, ci dice ma no, ognuno di noi è creato per qualcosa di infinitamente più grande di quello che calcoliamo, che misuriamo, o di quello di cui ci lamentiamo anche con Dio. L'anno della misericordia finisce il 21 di novembre, e poi? Penso è come la fine della messa, la messa è finita, andate. Il Papa ha voluto che questo anno fosse un'esperienza della misericordia, anzitutto accogliendola, tutte queste indulgenze così facili da ricevere, tutta questa meditazione sulla misericordia. Ecco, dopo la fine dell'anno saranno come dire, come tutto questo ci invierà in missione, cioè continuare l'esperienza e vai e fa lo stesso, no? E come vai e vivi questo mistero, perché il mondo non ne ha bisogno solo per un anno, e neanche noi ne ha bisogno per sempre, la misericordia di Dio è la realtà eterna della nostra vita e della vita del mondo.